Ad un mese dal suo insediamento e a 30 giorni dalle elezioni per il rinnovo del vertice dell'ente di via Berta, il presidente in carica della provincia di Sernia Roberto di Pasquale ha voluto incontrare, accompagnato da tutti i funzionari, gli organi di informazione per un primo sommario bilancio del suo mandato. Rispetto al CIS Molise, il contratto istituzionale di sviluppo Molise, anche dall'ultima riunione abbiamo avuto conferma dell'impegno a dare un contributo a questa nostra regione. Certamente economicamente la somma per i 351 progetti è notevole, siamo arrivati a un totale di 2.200 milioni, quello che per ora invece sarà certamente investito è un 10%, cioè 220 milioni. La certezza è che ci sarà modo di poter completare anche gli altri progetti, quindi di interessarsi a tutti gli altri progetti, questo anche per dare comunicazione ai sindaci che in un primo momento sicuramente vedranno non accolte le loro desiderate, le loro richieste, i loro progetti, sicuramente in una seconda fase o con misure diverse, così come detto dallo stesso Conte, avranno modo di poter essere realizzate. Novità importanti riguardano la Fresilia, con il completamento imminente dell'ultimo tratto di 8 km da Civitanova-Sprondasino. Si tratta di un segmento stradale fondamentale per la regione, poiché collegherà Bifernina e Trignina passando per Frosolone. Finalmente con l'impegno da parte di più, veramente da parte di qualche consigliere anche della passata amministrazione provinciale, dell'impegno dello stesso Presidente Lorenzo Coia, tutto questo è stato possibile e per me è solo un prendere atto e riportare all'opinione pubblica anche di questo nuovo obiettivo raggiunto sia dall'amministrazione che dalla struttura tecnica. Ovviamente l'argomento principe della conferenza è stato il viadotto Sente di Agnone. Dopo lo studio geologico su tutta l'infrastruttura si procederà con la messa in sicurezza del pilastro traslato, un lavoro eccessivamente oneroso per un ente ridimensionato dalla del Rio, per cui Di Pasquale cerca la collaborazione dell'ANAS. Con i fondi del decreto Genova già stanziati appunto per il viadotto Sente si riesce a fare, o almeno a iniziare a fare delle analisi rispetto a tutta la struttura e a prevedere anche il risanamento della pila in questione. Siamo andati anche in ANAS qualche giorno fa a Roma a chiedere se per il viadotto Sente riuscivamo a dare un risultato diverso, cioè a risolvere il problema dando una convenzione nuova, vale a dire l'interessamento da parte dell'ANAS che dovrebbe prendere in proprietà e anche in gestione la struttura stessa. Altro argomento di grande attualità è relativo all'edilizia scolastica, in particolare la messa in sicurezza del Fermi con la demolizione del piano sopraelevato e l'acquisto delle cucine per l'alberghiero di Agnone. Siamo in procinto di analizzare i progetti che sono stati presentati per quanto riguarda l'Istituto Enrico Fermi, quindi che va in questo momento già in gara diciamo, quindi stanno analizzando i progetti presentati, la commissione è stata insediata e penso che a breve, scelto il progetto, si andrà proprio a iniziare il cantiere. Mi sono ritrovato così da portare la loggia al domani, tipo il CIS, CIS Molise, e poi ci sono stati presentati per l'alberghiero di Agnone.